La tradizione cristiana cattolica del presepie è più radicata a Varapodio in provincia di Reggio Calabria grazie ai presepisti Crucitti che ogni anno da diversi, il professor Crucitti, Rocco e Figli, presepisti dal 1955 e la loro omonima associazione culturale operativa sin dal 2011 realizzano presepie e mini presepie elettromeccanizzati di varia natura su richiesta. Padre e figli lavorano nel progettare e realizzare per diversi mesi con devozione ed amore il grande e suggestivo presepe artistico tradizionale ed elettromeccanizzato in stile storico rinnovandolo di anno in anno nel rispetto della tradizione popolare e religiosa. Questo presepe è degno di nota come tutte le altre loro opere di arte presepiale. Anche quest'anno l'ideazione e la realizzazione di quest'opera d'arte sacra l'ha realizzata l'artista Nicola Rocco Crucitti, padre di Rocco, ha coordinato il tutto insieme agli altri suoi figli tra cui Carmelo che nella sedia a rotelle con la sua sola mano sinistra a causa di un grave ictus da qualche anno continua a dare il suo valido contributo. È un giovane artista ed un esempio per tutti poiché con la forza e il coraggio infonde tanta fede speranza che traspare nell'amore verso l'arte presepiale. Insomma un'opera d'arte e la potrete vedere e visitare a Varapodio in provincia di Reggio Calabria in via San Nicola X. È stata inaugurata il 16 dicembre e rimarrà aperta fino al 6 gennaio tutti i giorni la mattina dalle 10.30 in poi pomeriggio dalle 16.30. Il parroco Don Gaudioso Mercuri l'ha benedetta come hanno sempre fatto i suoi predecessori alla presenza del sindaco, del presidente dell'azione cattolica e poi visitatori che nell'ammirarlo rivivono la spiritualità dell'antica Betlemme di 2019 anni fa come viene descritta dai Santi Vangeli nella semplicità e con i medesimi sentimenti di San Francesco d'Assisi che al ritorno dalla Terra Santa nella Santa Notte nel 1223 a Greccio ha ideato il presepe in quanto per loro diventa una preghiera in azione. Tanti gli effetti sonori e fusioni di luci e tanti altri effetti speciali, il tutto ben accompagnato dalle musiche sacre che infondono emozioni ed entrano nella magica atmosfera del Santo Natale. L'alternanza del giorno che segue la notte e il calar della sera, si accendono le luci nelle case e poi per quelle vie del villaggio si sente il pianto del divino bambinello. Nel cielo la luna, le stelle, la stella cometa, i tuoni, i fiocchi di neve che scendono dal cielo, la nebbia, gli uccelli che si muovono tra gli alberi e tanto altro ancora che crea un paesaggio reale e suggestivo, uno spaccato di vita rurale, semplice, umile e vitale nella Palestina del tempo di Gesù, come quella della Calabria al tempo dei nostri nonni, descritta così dallo scrittore Corrado Alvaro. Corrado Alvaro 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.